Allora, ci siamo? Allora, riprendiamo, mi raccomando, ve lo ricorderò ancora su Telegram un po' di volte e così via, CPD di fine insegnamento che vi darà poi accesso anche al CPD post esame, che è molto più slender, molto più breve, è opzionale ovviamente, però insomma, se lo fate meglio perché supportate meglio i vostri rappresentanti in Senato che hanno piacere di avere dei feedback su come vanno gli insegnamenti. Il post esame è solo per alcuni corsi in modalità sperimentale, per quelli che hanno adorito, incluso il sottoscritto. Ok, lo ripeto poi a fine corso, cioè a fine lezione, quando ci siete poi tutti sicuramente. Ok, allora noi andiamo avanti, finiamo il discorso. Abbiamo detto come si fa il login, c'è la root di login, password authenticate local, scriviamo così, abbiamo risolto il nostro problema, ritorniamo a quello che interessa l'applicazione, nome, cognome, quello che volete, oltre all'id utente che di solito serve anche perché quando si fanno poi richieste, si vuole identificare in maniera univoca l'utente. Ok, le mettiamo dove desideriamo, nell'applicazione, è uno stato come un altro, una risposta di un API del server, quindi finirà in uno stato, e quindi dobbiamo porci il problema adesso di cosa succede alle root, lato server, che richiede un'autenticazione, come facciamo a imporre l'autenticazione e come facciamo a farla funzionare. Quindi ci sono delle root che devono fornire una risposta solamente agli utenti autenticati, solo a quelli e nessun altro, quindi devono essere, diciamo così, protette. Allora, il browser, se ha fatto l'autenticazione, avrà il cookie e il cookie arriverà sempre al server dell'API. Ok, quindi questo non ci piove, questa è la modalità di default di funzionamento del browser. Tra l'altro il cookie, abbiamo detto, è esterno a javascript, non è accessibile a javascript perché abbiamo messo HTTP only, e quindi per forza funziona così, i browser funzionano così, da decenni. Ok, quindi tutte le volte che faremo una richiesta verso il server dell'API, verrà inviato il cookie. Quindi il problema è lato server, cioè il problema, dobbiamo gestire la questione lato server. Bene, allora, c'è un primo problema, diciamo così, tecnico da risolvere, ossia che il browser di suo non ci invierebbe il cookie, a meno che il meccanismo del course non ci autorizza esplicitamente. E quindi sul lato del server non ci basta più scrivere app use course aperta e chiusa tonda e basta, come facevamo fino all'ultimo lab, perché il default non include i cookie. E allora noi dobbiamo mettere un default che include i cookie. Quindi noi dobbiamo mettere delle opzioni, qui dove c'era il vuoto, dobbiamo mettere origin, l'url del server che ha l'API, quindi adesso qui c'è scritto 3000, ma se voi usate 3001 mettete 3001, mi raccomando non sbagliatevi, ma se no comunque lo vedete, nel tab network del browser vi verrà fuori course, not allowed, eccetera eccetera, andate a verificare queste opzioni che siano giuste. E poi credential true che vuol dire, ok, posso ricevere cookie. Quindi va bene che il browser spedisca cookie, anche se è stato caricato sulla localhost 5173, mi sembra, può spedire i cookie a 3000 o 3001, a seconda di quello che avete. Buongiorno, questa è una configurazione da fare una volta sola, lato server, la facciamo, finito. Fate solo l'occhio alla porta, perché se rilanciate il server su un'altra porta, poi questa va cambiata. Ma insomma, se avete un server alla volta che gira, non ci sono problemi. Questa cosa in realtà va fatta anche lato client, perché anche la fetch ha bisogno che gli si dica di includere il cookie. Quindi sostanzialmente trasfereremo tutte le fetch di richiesta autenticate con un oggetto in cui mettevamo il metodo, che get era il default, e tutti gli altri invece andavano specificati, metodo, post, put, eccetera, dobbiamo anche metterci credential include. Vabbè, ma questo è semplice. Anche la richiesta di login, anche se non ha ancora la sessione, deve includere credentials include. E poi c'è la protezione delle route, lato server. Cioè dobbiamo verificare se effettivamente la richiesta è autenticata. Bene, noi possiamo usare la funzione di passport REC is authenticated, ok? Che spunta fuori nel momento in cui facciamo app, use, passport, passport local, session, eccetera, eccetera. Ok? Quindi che ci ritorna vero o falso secondo che la richiesta sia autenticata o no. Notate bene che non vuol dire sia autenticata da un certo utente. È autenticata o no? C'è arrivato un cookie di sessione valido. Io posso avere sullo stesso server più utenti che usano il mio server con sessioni attive differenti, ok? Quindi la richiesta è di una sessione attiva valida. Ok. Siccome usare is authenticated è un po' scomodo perché io vorrei fare un test e fare in modo che ritorno immediatamente un messaggio tipo non è autenticato quindi chiudo lì la richiesta immediatamente se questo valore è ritornato alla funzione è falso mi scrivo una piccola funzioncina che è questa is logged in che potete prendere, copiare, incollare usare uguale identico nel vostro codice che semplicemente va a prendere REC, RES, NEXT che sono tre parametri che vengono passati ai middleware di express richiesta, risposta e NEXT che è la prossima funzione da chiamare nella catena dei middleware e quindi io faccio se is authenticated return next cioè chiamo la prossima funzione ci pensa Express a agganciarla altrimenti faccio RES status 400 forse sarebbe meglio 401 vabbè ma fa lo stesso message not authenticated e questo tornerà immediatamente indietro a chi ha fatto la richiesta e tutto il resto non verrà eseguito perché io non chiamo più next e quindi nella catena dei middleware lì si interrompe si dà una risposta e finito ok quindi questa è la maniera che useremo in parole povere in ogni root che deve essere autenticato dobbiamo mettere is logged in che implementa questa chiamata REC is authenticated di passport così siamo sicuri che verrà fornita una risposta con dei dati solamente a quelli che ci fanno una richiesta con un id di sessione valido cioè con un cookie che ha un id di sessione valido ok qualsiasi uno che sia in quel momento valido ok adesso poi andiamo a vedere come capire qual è l'utente poi abbiamo quasi finito e andiamo sul codice prima di finire il discorso vorrei chiudere il circolo perché oltre al login abbiamo il logout il bottone esci logout eccetera che c'è nell'applicazione beh in realtà questo è molto semplice forse la cosa più semplice di tutto il meccanismo faccio un'operazione di richiesta http faccio una post di nuovo perché mi modifica lo stato del server non è idempotente post logout oppure di nuovo in realtà noi in realtà nel codice ho implementato delete api session ok perché in realtà distrugge la sessione però diciamoci ci può stare perché la delete è idempotente se faccio due logout ci può stare che la risposta sia la stessa ok il server eliminerà la sessione eliminerà l'id di sessione bon c'è rec logout finito non ho nulla da dire res end qui sarà 200 se non metto il codice è 200 la risposta quindi ok end per dire ho terminato la risposta non ho un body va benissimo così ok quindi questa è la cosa più semplice di nuovo basta usarla nel nel codice ok ecco vorrei tornare solo un attimo indietro a una cosa che viene sbagliata tantissimo all'esame come faccio a sapere qual è l'utente autenticato in quella sessione l'unica maniera che ho è di andare a prendere l'informazione da rec user prenderla da qualsiasi altra parte è sbagliato in particolare è sbagliatissimo farsela passare dal client il client non è quello che deve dire qual è l'utente autenticato cioè il client lo dice col cookie il cookie però deve essere stato prodotto dal server ok perché se no un po' come diceste al server della banca della vostra banca io sono qualcun altro fai l'operazione per qualcun altro no è il server che decide chi siete non siete voi client che dite chi siete ok lo dite nella forma del cookie ma il cookie è stato prodotto dal server è il server l'unico che è in grado di dire che quel cookie appartiene a quell'utente e apparterà a quell'utente che è quello che si è autenticato non a un utente qualsiasi come fate sul server a recuperare questa informazione la dovete recuperare con rec user ok l'informazione di sessione deve essere controllata dal server sul server non c'è un altro posto dove ha senso controllare questa informazione inoltre siccome questa informazione è disponibile non solo è inutile inviarla dal client ma è proprio concettualmente sbagliato perché chiunque potrebbe inviarci qualsiasi dato ok questo è proprio un errore che ho visto che si verifica tante volte all'esame quindi cerchiamo di fare attenzione di non sbagliarci ok allora andiamo nel codice visto che qui abbiamo finito e apriamo code code non è week 12 ma è week 13 adesso si è piantato tutto week 13 ok stamattina un po' lento si vede allora qui ho messo un esercizio perché diciamo aggiungere l'autenticazione al nostro esercizio della delle domande risposte non è così banale perché dobbiamo un attimo pensare a che che cosa quale pezzo della nostra applicazione vogliamo rendere autenticato e così via perché potremmo fare un esercizio molto semplice e dire ok non si può vedere niente fino a che qualcuno non sia autentica però diciamo avremmo fatto un esercizio che vi serve poi un poco all'esame perché come dire abbiamo solo protetto delle pagine con un'autenticazione io invece vorrei fare un qualcosa che ha un po' più di significato anche in vista dell'esame cioè faccio consento delle operazioni ad un utente sulla base delle informazioni che effettivamente questo utente può modificare o voglio che possa modificare allora io avevo nella mia applicazione facciamo che la lanciamo così intanto la ripassiamo allora ovviamente dobbiamo sempre fare il solito tnpm install nella mia applicazione avevo la lista cioè una domanda e la lista delle risposte fornite da più persone queste persone adesso diventano utenti quindi io dovrò avere un database che contiene la tabella degli utenti questa ci sarà sempre nel vostro progetto perché praticamente sempre ci sono gli utenti quindi node mon server e poi il mio client client npm run dev ok quindi questa è la mia applicazione ho un po' ridotto i ritardi lato server perché mi serve un po' di velocità nel fare le cose oggi quindi la mia solita applicazione ho delle domande fatte da qualcuno per ora le domande le lasciamo perdere per semplicità se no non finiamo più di cambiare l'applicazione ho delle risposte anche se date da qualcuno Alice Henry Carroll ok io vorrei trasformare la mia applicazione nella forma in cui le domande possono essere editate cancellate solo da chi le ha no scusate le risposte queste qui nella lista possono essere editate e cancellate solo da chi le ha diciamo create anche se noi non abbiamo la creazione da chi è il proprietario di queste risposte pensate voi andate su stack over fate il login date la vostra risposta poi magari vi va di cancellarla vi va di editarla e così via però non vi va che qualcun altro lo faccia al posto vostro la vostra risposta non è quella di chiunque ok mentre invece per mia scelta perché l'ho deciso io adesso per semplicità tanto per fare un po' di cose interessanti spero chiunque può andare a fare l'up vote quindi dare un voto in più ad una risposta di chiunque altro ok in questo momento non tengo traccia di chi vota cosa no perché perché ho scelto così perché se no mi serviva un'ulteriore tabella non finivo più ok perché a me adesso interessano gli utenti quindi io vi chiedo quindi fare in modo allora che solo gli utenti autenticati possano aggiungere nuove risposte e quando le aggiungono saranno loro gli autori automaticamente quindi io non è che posso dire che l'ho aggiunta per Carol se sono Harry ok quindi sono sempre io mi sono autenticato e se non sono autenticato non voglio che nessuno le aggiunga perché io voglio che l'autore sia certo no se no cosa metto come autore come prima potevo sceglierlo io ma diciamo prima facciamo esercizi con i form adesso abbiamo degli utenti vere facciamo in modo che solo quegli utenti facciano le cose di loro competenza solo il proprietario della risposta può aggiornare e cancellare la risposta chiunque che sia autenticato o non autenticato anche gli autenticati ma anche gli autenticati è semplicissimo funziona come prima basta non fare il check se uno è autenticato o no l'API è esattamente la stessa puoi fare l'app out ok quindi io ho già sistemato un po' il lato server e adesso finiremo di sistemare il lato client se no non abbiamo il tempo di fare tutto il lato server è sistemato in una maniera abbastanza definitiva cioè sostanzialmente è quella che potete tranquillamente usare all'esame se avete gli utenti come succede quasi sempre quindi abbiamo implementato passport con tutti i meccanismi che abbiamo detto prima dobbiamo solo decidere quali root sono autenticate e quali no ok? rispetto a prima quindi le root cambieranno un pochettino e poi il lato client che è un po' più interessante invece questo lo facciamo insieme allora andiamo sul server allora sul server ci sono tutta una serie di cose tecniche importo passport la local strategy la session e va bene ovviamente avrò dovuto fare npm install eccetera e tutto questo va da sé se voi andate a cercare il package json c'è passport password local express session ok? quindi questo va da sé ma sono cose che oramai questa passport use local strategy esattamente il codice che abbiamo scritto sulle slide magari qui trovate due frasette un pochino migliorate nei messaggi ma niente di particolare abbiamo una get user che ci recupera l'utente e se non va bene diamo il messaggio come vi dicevo generico incorrect user nemo passo anche perché tra l'altro qui non abbiamo informazioni quindi va benissimo così quindi get user io mi sono fatto una user dao per comodità perché poi questa così la riciclate facilmente è il dao che si occupa quindi fa accesso al db solamente per gli utenti e fa le query sulla tabella users ok? quindi ci saranno ci sono tre funzioni get user get user by che serve per l'autenticazione get user by id perché voglio recuperare le informazioni relative a un certo utente e basta guardiamo il db perché magari in questo momento vi viene il dubbio su cosa sta facendo il db allora cioè cosa c'è dentro il db allora il db ve l'ho messo online qual'è? av1 github wick13 server quindi il db contiene una tabella users allora io ho messo dentro la tabella user ovviamente un id auto increment si fa da solo ogni volta che si aggiungesse un utente si aggiunge un id poi email name sale e password come ho fatto a determinare il sale? così pestando sulla testiera ho scritto a caso ok? quindi ho messo una stringa a caso mi sembra di 16 caratteri va bene ok? non importa questo invece questo invece l'ho determinato sulla base del sale e della password che voglio mettere che dovete poi scrivermi da qualche parte quindi io l'ho scritto nel server nel readme ho scritto quali sono le password che poi me le dimentico di tutti gli utenti ho messo pwd per comodità ok? per scrivere poco sono pigro ma va benissimo anche per l'esame a meno che non chiediamo esplicitamente dei check particolari sulle password eccetera meno scriviamo meglio è perché testiamo un po' più in fretta se siete in 100 un secondo di qua sono già due minuti ok? per tutti quanti un secondo in più che spendiamo per uno ok quindi password pwd andiamo a vedere se effettivamente è così quindi io ero sul sito di prima l'Scrypt che adesso non funziona più ok benissimo io ho usato 32 per avere un po' più core ma fa lo stesso mettete il numero che volete l'importante è che poi nel codice da qualche parte c'è scritto 32 64 dovete mettere 64 anziché 32 ok? però fa lo stesso allora il db prendiamo la prima copy quindi sale paste io ho scritto io ho scritto pwd schiaccio il bottone 32 bdd fd eccetera eccetera bdd fd eccetera eccetera ok? quindi quindi così carico il db scegliendo la password che voglio no? perché poi questo problema ce l'avete perché perché noi nell'esercizio dov'è? nell'esercizio non compriamo la fase di registrazione degli utenti ok? perché codice addizionale non ci serve adesso gli utenti sono già creati quasi sempre anche nel tema d'esame vi chiederemo di averli già creati non state a fare la pagina per registrare gli utenti se non è richiesto dalla traccia d'esame perché? semplicemente perché una gran perdita di tempo e non aggiunge niente all'applicazione a noi piace vedere come avete usato gli stati le use effect le props l'architettura i componenti le API non che avete fatto una pagina per registrare un utente che poi è sempre uguale come quella di login ok però di quella di login non possiamo farne a meno perché se no non ci autentichiamo ok quindi così si crea il db io vi ho messo online dove è? uno script ok? uno script sql il db createlo in questa maniera aprite il programma fate nuovo database vuoto andate esegui una query eseguite la creazione delle tabelle inserite i dati finito fatevi una copia del file quello è il db iniziale io vi ho messo una copia del file uadb initial quando avete distrutto il db perché avete fatto le query sbagliate avete combinato tutti i pasticci possibili fermate il server copiate il db iniziale sul file che usate e avete il db riparato nello stato iniziale questo è il bello di SQLite il motivo anche perché ci piace usarlo perché è comodo per voi e comodo per noi ok quindi qui io mi sono sognato il sale e ho calcolato l'hash che corrisponde la password ok mi raccomando questo ci teniamo perché le buone faccio un po' di battute però come dire le buone abitudini di sicurezza si imparano da piccoli nel senso quando uno impara cioè quando uno si trova a dover sviluppare qualcosa è bene che impari con le buone pratiche no piccoli per il modo di dire quindi evitiamo è vero che avremmo potuto tenerle passo ah questa si è passo avremmo potuto tenerle passo in chiaro ma non era una buona pratica e proprio ci dava ansia mettiamola così almeno a me personalmente avrebbe dato un sacco d'ansia va bene allora il server local strategy abbiamo creato gli utenti sono dentro il server c'è la get user che stavamo guardando prima nella user dao che fa è quella delle slide magari un pezzettino cambiato no però select asterisco from users forse sull'esai c'era user decidete voi il nome della tabella non fa niente email io ho deciso che l'email è la mia username quindi l'identificativo unico ok oltre l'id però non posso far logare l'utente con l'id non mi piace voglio dargli l'email ok l'ho deciso io nel tema d'esame spesso è a scelta di chi lo implementa e quindi non ci sono tante cose a vostra scelta decidete quello che ritenete più opportuno l'email un'email va benissimo a at polito punto it qui ho messo r at test punto com quello che volete ok questo è lo stesso codice delle slide qui non c'è niente da inventare c'è da prendere e usare 32 è questo numeretto che scriviamo qua perché voglio 32 caratteri per l'hash della password se volete 64 lo mettete però poi dovete mettere 64 qui ma fa lo stesso questo imponere che ci sia l'hash ok torniamo sul server poi c'è la serialize user e deserialize user qui non c'è niente da inventare tranne il fatto che io ho deciso che tengo l'id dell'utente quindi l'id del database che è quello unico come informazione che diciamo passport userà come identificativo unico della sessione ma non mettendomela in chiaro da associare al cookie di sessione ok io direi che se avete questo identificativo unico nel db va benissimo questo non state a cambiare niente altro avremmo potuto mettere per esempio l'email ok qui ci poteva stare però non è il caso se avete l'identificativo quello va benissimo l'unica cosa è che poi dovete avere una funzione che sulla base di questo identificativo unico vi tiri fuori le informazioni ed è l'altra funzione del dao dello user quindi user dao dove è ok quella get user by id che è quella di sopra che select asterisk from user where id mentre prima c'era where email ok perché io faccio autenticazione con email e password ma poi quando ho la sessione ho id dentro la sessione e quindi voglio dall'id recuperare email nome cognome tutto quello che voglio ok ecco notate che qui non si fa alcuna verifica della password questa è una cosa interna al server l'id viene fuori come prima dalla sessione del deserialized user dalla sessione quindi questo id è stato già stabilito prima da passport dalla sessione quindi non è che c'è bisogno di autenticarlo se siamo arrivati qui questo id è dentro dalla sessione ed è un id valido ok l'unica cosa a cui serve questa funzione è perché dà un po' di flessibilità a passport e quindi fa in modo che in user noi ci possiamo scrivere quello che vogliamo e noi in user ci scriviamo id email e nome nome di battesimo Enrico Henry Carol e così via ok quello che abbiamo nel db questo dov'è perché perché poi lo passo indietro e vi faccio vedere che quando faccio l'autenticazione faccio login mi viene fuori logato come Enrico logato come Henry logato come Carol e così via e questa informazione dove ce l'ho ce l'ho sul db e qualcuno me la deve ritornare ok va bene quindi questo c'era già app expressport 3001 ah no scusate ecco questo prima durante la lezione ho sbagliato ecco in realtà l'origin da consentire è quella di white 5173 non il 3001 quindi vi chiedo scusa prima dicevamo 3000 ma in realtà questo è il 5173 ok occhio solo se vi parte su un'altra porta che questo non funziona più però chiudete riaprite e fate prima credential true come dicevamo il course options buon usare è chiaro che nel momento in cui andate in produzione cioè fate un'applicazione reale queste robe vanno sistemate quindi dovete mettere la porta reale dovete mettere il nome dell'host vero che non sarà più loco l'host e così via ok però noi non abbiamo il tempo mi spiace di fare questa cosa però dovrebbe essere abbastanza lineare ok is logged in è la stessa delle slide quindi è una comodità per chiamare rec is authenticated se no io dovrei prendere questo codice e metterlo lì dentro come error function dentro ogni volta che ho bisogno di fare una richiesta autenticata tipo ecco qui post api answer ci metto is logged in anziché tutto quel codice ma questo è abbastanza intuitivo quindi tutto il resto è uguale app use session con un secret di nuovo ho pestato tasti a caso fatelo pure anche voi possibilmente non mettete gli stessi dei vostri colleghi ma non cambia niente perché dovremmo far ripartire l'applicazione eccetera ma poi magari ci resta il cookie del vostro collega di prima perché non abbiamo chiuso il browser è solo un pasticcio poi magari sembra già autenticato in realtà non lo è ma perché avete usato lo stesso secret dei vostri compagni ok pestate un po' di tasti a caso e fine fate pure il commit di questo valore sul git solo per noi anzi dovete farlo perché sennò l'applicazione poi non va va bene così come vi ho detto prima è chiaro che nel momento in cui abbiamo un'applicazione reale questo valore va tenuto segreto ok come anche non avreste piacere di avere il database anche se sono solo hash però in giro per che so committato da qualche parte in giro disponibile a tutti inizializzazione va bene e con passport abbiamo finito ok quindi qui c'è solo da prendere ciò che abbiamo scritto cambiare questo secret e voi avete finito la parte passport e lato serve non c'è niente da inventare c'è ancora da sistemare ciò che dipende della vostra applicazione cioè dovete decidere quali route sono autenticate e questa è la cosa più difficile ed è anche la cosa che poi guardiamo bene all'esame perché il resto è un copia e colla quindi allora io ho deciso torniamo all'applicazione ho deciso che ho deciso che chiunque può prendere la lista delle domande la lista delle risposte che corrispondono a una domanda perché sono informazioni che per me non sono problematiche le faccio vedere a tutte un po' come aprite stack overflow trovate la lista con le risposte e così via forse stack overflow per votare dovete loggarvi non lo so forse si per evitare che tutti fate 10 click e fate più 10 su una domanda su una risposta eccetera però diciamo noi per semplicità qui abbiamo detto che chiunque può fare click ok però le altre azioni no solo chi è autenticato e che corrisponde a chi è il proprietario della risposta ok quindi io adesso in questo momento avevo già un po' sistemata l'interfaccia e quindi ho i bottoni disabilitati prima non li erano disabilitati li ho disabilitati io vi faccio poi vedere sul lato client come fare questa cosa quindi in questo momento non lo faccio giusto per vedere ah no scusate il login non c'è ancora dobbiamo ancora implementare tutto va bene quindi scegliamo quali sono le route autenticate come facciamo a scegliere ragioniamo sulle route questo è un ragionamento a priori indipendentemente da tutto il codice che scrivete dovete prima ragionare come sempre allora c'è un readme che io ho aggiornato delle delle api del server oltre a trovarci la password ci trovate le api che sono le stesse di prima perché le api non sono cambiate ce ne sono tre in più che sono quelle che servono a fare login logout e avere le informazioni dell'utente ok chiaro che c'è l'utente ho messo quelle dell'utente ma tutte le altre sono uguali identiche cosa è cambiato è cambiato che in qualcuna c'è l'informazione che ecco cancelliamo una risposta per farlo serve un identificativo di sessione valido e in più ecco non dimenticatevi di questa seconda parte che è quella che ci si scorda di più all'esame perché mettere is logged in si fa in fretta basta scrivere is logged in in più nelle root diventano autenticate ma quello che dovete verificare è che chi fa la richiesta sia lo stesso che è il loaner come dire il proprietario della risposta perché se no qualsiasi utente autenticato va a cancellare la risposta di chiunque altro se non fate questa verifica e questa verifica è codice che purtroppo dovete scrivere voi a manina sul server ok perché se no la is logged in verifica che ci sia una sessione attiva quindi se noi andiamo sul server prendiamo la delete questa che abbiamo appena visto delete is logged in verifica che ci sia una sessione attiva ma può essere una sessione di un qualsiasi utente io qui ho cinque utenti no? sono cinque utenti ci sono cinque utenti che possono essere autenticati ma se io voglio cancellare la risposta numero non lo so qual è quella di Henry questa qui for in deve essere Henry che è autenticato non uno qualsiasi no? non è che uno qualsiasi può operare un qualsiasi autenticato può operare sul conto in banca vostro dovete essere voi non uno qualsiasi autenticato quindi la is logged in ci dice che c'è una sessione autenticata come faccio a recuperare chi è l'utente autenticato una volta che la sessione autenticata oltre ad avere rec param rec query eccetera se esistono ho cioè se ho messo i parametri eccetera ho rec user dovete sempre 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 recuperare queste informazioni da rec user e siccome prima ho deciso che nella serialize tenevo l'id qui ci sarà punto id e nella punto id tengo l'id del database ok quindi devo regolarmi che poi quando scrivo le query quello è l'id del database ok ok quindi mi raccomando io l'ho scritto da tutte le parti spero di non aver scordato nessun nessun punto qui è sbagliato e verrà penalizzato l'esame se lo vediamo ma andiamo a cercarli usare qualcosa diverso da rec user id in particolare è sbagliatissimo farsi passare l'identificativo dell'utente dall'applicazione ok cioè oltre che inutile ma sull'inutile possiamo passarci sopra sullo sbaglio lato server no perché se voi qui usate rec body id perché ve lo siete fatti passare dall'applicazione consentite a chiunque che sia autenticato di cancellare qualsiasi cosa basta conoscere l'id dell'utente che non è quello che vogliamo l'utente deve essere autenticato per sapere qual è l'utente autenticato nella sessione corrente l'unico modo è prendere rec user id e usarlo correttamente come id dell'utente autenticato quindi quando andiamo a fare la delete che adesso andiamo a cercare quindi nella delete che sarà in DAO delete from where id and respondent id uguale ok io ho dovuto un po' modificare il database rispetto alla volta scorsa quindi tutte le risposte adesso non hanno più un nome ma hanno un id ok quindi respondent id era il nome dell'utente carol harry harry e cos'era alice harry harry carol ok e nella tabella degli utenti è 1 2 3 4 5 sono questi id qua ok quindi ho fatto una chiave esterna non l'ho imposta nel db ma la impongo nella logica dell'applicazione va bene perché perché se no non esco più con i nomi i nomi non sono unici io mi chiamo harry e qualcun altro potrebbe chiamarsi harry ok l'unica cosa che è unica è l'id quello che è garantito essere unico ok quindi con una query scritta in questa maniera sono sicuro che se qualcuno mi ha chiesto di cancellare una certa risposta che è identificata dal suo id questo è l'id della risposta ma se non c'è anche respondent id uguale al rec user id che ho messo prima che ho passato questa query fallisce quindi non fa la cancellazione e mi ritornerà un errore in condizioni normali io vi ho scritto l'applicazione in maniera che questo errore non si verifichi perché come avete visto prima ho disabilitato i bottoni e un utente normale non può sbagliarsi se ho scritto bene l'applicazione però questa cosa sul server deve essere verificata perché l'utente malizioso come chiunque entra in possesso di qualche cosa che non deve o di informazioni che non deve mi invia delle richieste deve essere affermato se possibile quindi certo che se ha l'identificativo di sessione che corrisponde all'utente che padrone la risposta è chiaro che me la cancellerà però se mi ha rubato le credenziali mi ha rubato le credenziali c'è niente da fare se invece qualcuno semplicemente decide di inviare una richiesta come io io adesso sono utente del sistema mi autentico e poi so che c'è qualcun altro che è l'utente numero 10 e se non ho fatto questo controllo invio delle richieste di cancellare le risposte dell'utente 10 ma io non sono l'utente 10 se qualcuno non ha fatto questa verifica è un problema questo vale per tutte le richieste autenticate ok quindi andiamo a pensare a quali potrebbero essere allora delete ovviamente il voto abbiamo detto che chiunque può votare per cui non sarà autenticata non è un problema bolla lasciamo com'era l'aggiornamento uguale l'aggiornamento deve esserci una sessione valida e in più chi richiede l'aggiornamento deve essere lo stesso che è il proprietario della risposta cioè io non posso andare ad aggiornare ed editare la risposta di un altro ok quindi stesso meccanismo ok ah qui il respondent è di troppo vabbè fa niente ma tanto non viene usato dove è l'aggiornamento la put ecco la put ecco la put è il codice di prima solo che ecco update answer qui c'è rec user id di nuovo è sbagliato usare qualsiasi cosa che non sia rec user id ok e se andate a cercare la update answer e andate a cercare la query anche qui l'ho aggiustata con end respondent id perché un update se la where non è soddisfatta non si verifica ok guardiamo la la post che è un po' più sottile ok quindi la post è quando io creo una nuova risposta creo una nuova risposta quando creo una nuova risposta chi è il proprietario della risposta è l'utente che è autenticato nella sessione quindi anche qui deve esserci la sessione attiva e deve esserci che l'utente che aggiunge la risposta è quello della sessione infatti non c'è cos'era respondent id qui è sbagliato respondent id cioè se ce lo metto è di troppo perché l'atto server se anche ci fosse lo devo prendere e buttare via perché se no chiunque di nuovo come prima chiunque autenticato aggiunge respondent id che vuole quindi aggiunge una risposta per qualsiasi utente che ci sia dentro il db che non va bene come si fa a evitare ciò nella post che forse era sotto no era la voto la post di aggiunta è questa il respondent id ce lo metto io se voglio riciclare il codice di prima e ce lo metto da rec user id se c'è scritto rec body id questo vi fa perdere punti all'esame sicuro 100% ok perché perché vuol dire che non avete capito la differenza che c'è tra prendere l'identificativo dalla sessione all'auto server che è un'informazione sicura e autenticata già dal server e invece il fatto che arrivi un valore qualsiasi da un qualunque utente autenticato che è invece rec body punto qualscosa ok poi è chiaro che rec body ci saranno delle informazioni perché l'utente deve dirmi cosa ci vuoi scrivere nel testo della risposta qual è lo score iniziale a quale risposta a quale domanda fa riferimento va bene ok però l'utente deve essere preso di qua e qui non posso metterlo nella where nella query perché non c'è una where nella query nella query c'è create answer come facciamo create answer nella create answer c'è una insert into e rispondi in td è un valore basta non è che c'è where ma non posso mettere una condizione nell'sql perché che condizione metterai non lo so chiunque può aggiungere una domanda al massimo posso dire che l'utente esista se proprio volete però diciamo se l'utente è stato autenticato l'utente esiste ok quindi mi raccomando dov'è ecco quindi qui non lo passiamo l'abbiamo messo dentro ma deve essere rec user id ok se non ci sarà scritto rec user id ma c'è rec body rec param per carità rec query id eccetera è un errore che all'esame sarà sicuramente penalizzato perché perché vuol dire che uno non ha capito che la sicurezza diciamo della sessione dipende dal fatto che ci sia autenticato l'informazione su qual è l'utente autenticato deve essere tirata fuori dal server non spedita dal client perché chiunque autenticato può spedire l'informazione che vuole ok chiunque basta no perché io ho messo is logged in avrebbe mandato via prima però chiunque autenticato tra tutti gli utenti milioni miliardi di utenti che ho possono mandare quello che mi pare se non faccio la verifica lato server che effettivamente quello che sto mettendo sia corrispondente all'utente autenticato e l'unico modo che ho è rec user ok punto e basta mi raccomando insisto tanto su questo perché non ho visti proprio tanti negli anni scorsi di sbagli su questa cosa qua ok quindi cerchiamo ovviamente di evitarlo allora ci servono altre API autenticate allora c'era l'aggiunta l'aggiornamento la cancellazione non so qualcuno ha qualche idea c'erano le letture delle domande delle risposte io direi che non ce ne sono altre no perché i dati li lasciamo leggere liberamente infatti qui non ho ancora login e vedo tutto e possiamo ecco dare un'occhiata magari alle API di autenticazione però queste basta prenderle e copiarle nel senso che non c'è niente da inventare ecco rispetto alle slide anziché fare barra login io faccio post API sessions e il body dovrà contenere username e password come valori cioè come proprietà scusate poi i loro valori ovviamente o andrà o non andrà mi dirà ma in realtà forse qui mi sa che ho scordato che forse può venire indietro 401 vabbè scrivere tutte queste API è un po' fatico a noi interessa soprattutto il metodo il nome dell'API cioè l'urla dell'API scusate e la breve descrizione da questo noi in realtà capiamo già molto all'esame poi se c'è un piccolo esempio va anche bene mi forniremo un template da riempire e poi del resto possiamo discutere anche a voce io qui ho cercato di fare il più completo possibile ma ovviamente qualcosa ogni tanto sfugge ultima logout delete su session current e poi un API in più che non abbiamo menzionato nelle slide perché in realtà questo è un po' un API di servizio nel momento in cui voi avete una sessione autenticata può darsi che ogni tanto vi faccia piacere tirar fuori dal server le informazioni dell'utente autenticato quindi questa è una normale get ovviamente può funzionare solo con una sessione attiva valida e vi da tutte le informazioni sull'utente autenticato vi trovate in una pagina avete perso l'informazione sull'utente dovete caricare queste informazioni sapete che avete la sessione attiva fate lato client una fetch e una get API sessions current l'utente autenticato il server vi dice guarda questo è Harry username quindi l'email è questa l'id è questo e così via e voi le potete usare in uno stato per farci quello di cui avete bisogno anche solo visualizzare il nome e così via ok benissimo lato server direi che abbiamo terminato andiamo a sistemare il client tempo è sempre tiranno ma dovremmo farcela allora sul client in questo momento non succede nulla nel senso che dobbiamo decidere che fare allora io ricarico l'applicazione quindi qui ci sono i miei caricamenti soliti get api questions 1 c'era la lista delle questions forse no answers no question 1 scusate poi le answers che dipendono dalla question le ho caricate e via come l'altra volta adesso dobbiamo metterci l'autenticazione allora prima prima cosa devo creare la pagina quindi come faccio a creare una pagina creo una root la cosa migliore la cosa più semplice non diventate matti a cercare soluzioni alternative perché non ne vale la pena ok quindi allora dove sono le root in app alle app quindi io il login form ce l'ho già pronto perché se no non finiamo più quindi lo importo e creo la root quindi root path ovviamente dovete aver fatto delle pensate sulla login non c'è tanto da pensare sulle altre dipende dalla vostra applicazione ma queste pensate le abbiamo già fatte nei giorni precedenti nelle lezioni precedenti path allora qui c'è path io direi che potete usare tranquillamente login comunque senza senza diventare matti a fare chissà cosa elemento uguale e cosa ci mettiamo dentro io vi consiglio di fare un componente apposta sarà un form il solito form controlled che ho già preparato login form login form e basta ok poi ovviamente lo dobbiamo personalizzare un po' io in components ho già fatto un login form ok ce l'avete già quindi nei file questo login form non ha niente di speciale è un form quindi c'è un return vabbè l'ho fatto bellino container e compagnia un po' stretto form on submit handle submit form group username password ok gli ho messo ma forse mi sono scordato di mettere ditta no type password si ok i bottoni e andiamo a vederlo cioè io ho messo la root adesso questa root compare eh è semplicemente in realtà c'è già linkata dal bottone comunque tanto per provare login se lo facevate prima veniva fuori una pagina che ho scritto errore perché io avevo messo la root default che diceva non c'è adesso c'è quindi un form normale form vi invito per voi che fate i test ma anche per l'esame magari a mettere un valore iniziale nel form ecco come ho fatto io qui nello stato perché perché velocizza di tanto il test ok io ho già messo un utente una password sì una la registrazione degli utenti no di solito non è richiesta a meno che in quel tema d'esame proprio non sia richiesta esplicitamente quindi la registrazione degli utenti di solito non la chiediamo perché dicevo prima è un po' una perdita di tempo forma addizionale metti nome cognome eccetera devo creare l'esame tutto meccanico non c'è niente di interessante per cui uno si crea i 4-5 utenti nel db uso sempre quelli finito ok prego quindi questa è la pagina di login è un form controlled dobbiamo decidere che fare una volta che premiamo login perché il bottone cancel non è iniettato che ha un link e ci riporta la pagina principale quindi non ha niente di interessante questo login mi porta alla root login ok e quindi devo decidere cosa fare quando schiaccio questo bottone allora andiamo a vedere cosa ho fatto allora quando schiaccio il bottone intanto ho fatto un bottone di tipo submit e vi consiglio caldamente di fare tipo submit perché così ci funziona l'invio di nuovo facciamo prima se diamo invio sui form evitiamo di andare a fare il click end submit ma serve anche per voi per fare il sito un po' più carino e anche veloce da testare event prevent default ho un error message quindi ho un campo per far vedere gli errori come mi è appena uscito ok poi vediamo come mai credential username passo li vado a prendere dallo stato quindi ho il mio stato username passo li prendo e vado a fare l'operazione di login do login che vi ho implementato qui sopra c'è un api login con le credentials se va tutto bene dirò che non ci sono errori e chiamo una props che non ho ancora passato login successful che mi dice all'applicazione che sono in stato loggato però questo stato lo devo ancora creare altrimenti mi mostro un messaggio che è quello che mi è appena apparso perché mi è apparso boh vado a vedere andiamo a vedere ho fatto post request no scusa post dove è andato ho fatto questa post session request response ho fatto user nmr quindi dovrebbe andare il server l'ha attivato abbiamo attivato il server se il server l'ha attivato è arrivato post api session beh perché ah forse ho sbagliato la password non lo so no request pwd password r wrong user nmr password per quale motivo fallisce win credentials vabbè c'è sempre una sorpresa poi lo scopriremo vi faccio vedere il codice poi ci torniamo intanto magari mi viene in mente o viene in mente a qualcuno di voi ah sì scusate fallisce per questo perché perché la props non esiste questo è un errore a livello di javascript io chiamo un undefined con un parametro il risultato mi crea un'eccezione l'eccezione mi passa nel cache mi crea set error message ok quindi devo passare la props perché per passare la props devo crearla ok quindi il server mi rispondeva giusto infatti mi ha risposto con le informazioni dell'utente e lo vedete qui è importante che abbiate sempre sotto la console il tab network aperti così sapete cosa capita anche se non è sempre semplice capirlo e quindi andiamo in app in app andiamo a creare la funzione login successful ok la mettiamo sopra l'increase score quindi io qui la creo io const login ne scriviamo una poi le altre le copiamo successful qui mi dà la user ecco cosa ne faccio di questo user che è quello che mi risponde il server lo tengo in uno stato se devo memorizzare delle informazioni che arrivano nel server le metto in uno stato ok quindi avrò un set set user e dai sembra di avere qualche chat non lo so che diavolo vabbè const user set user che all'inizio è io vi suggerirei di mettere undefined anche se è un po' più rischioso nel senso che poi gli undefined fanno piantare l'applicazione almeno quando debuggate se c'è qualcosa che non va ve ne accorgete subito ok vi suggerisco anche di tenere una seconda variabile logged in boolean set logged in perché ogni tanto è comodo è vero che è un mezzo stato duplicato diciamo false però può essere comodo perché non sempre è comodo testare se c'è l'oggetto ma l'oggetto c'è ma è vuoto e quindi io ho inizializzato con l'oggetto vuoto e così via se avete questo boolean vi può vi può aiutare ok non è indispensabile però facilita anche la lettura del codice allora torniamo qua set user user ok e set logged in true ok se proprio voglio ci posso anche fare un set dirty true ok questo opzionale dipende se io ritengo che dopo il login è bene ricaricare tutti i dati ci faccio anche il set dirty ve li ricordo il set dirty ricarica i dati dal server i dati applicativi la lista delle risposte ok lo devo passare login successful dove è andato login form login successful ok vediamo se adesso mi funziona speriamo allora ripartiamo forza ok non mi ha dato errore è già buono ok quindi ho fatto la post c'è la get delle answers quindi il set dirty ha funzionato cosa mi manca mi manca di fare in modo di visualizzare la pagina principale dopo che ho fatto il login che ha avuto successo questo è un po' come dire è complicatino nel senso che non è immediato io potrei fare un navigate dentro dentro qui quindi fare navigate slash e ci può stare con la use navigate però vorrei farvi vedere un'altra maniera cioè se voi architettate bene tutta l'applicazione architettate bene tutta l'applicazione potete fare questa cosa qua che serviva anche a qualcuno che mi ha fatto una domanda prima nell'intervallo è possibile fare un redirect tramite dei componenti del router di react quindi io posso scrivere qui in element posso scrivere logged in e qui vedete perché mi veniva comoda quella variabile che è una boole e così e immediatamente si capisce tutto se sono logato dalla root login io non ci voglio neanche più passare io voglio che sia visualizzata un'altra cosa quindi cosa faccio c'è l'elemento navigate il componente anzi navigate navigate potete fare replace così non rimane nella storia il login nella storia del browser ma è una sottigliezza se anche non avete replace va bene lo stesso to slash altrimenti login forma eccetera eccetera devo chiudere la no devo chiudere il navigate ok altrimenti c'è il login form ok vediamo se funziona io ricarico sempre l'applicazione perché non mi fido tanto degli aggiornamenti fatti al volo da white però di per sé ci può stare adesso ho cliccato su login e sono tornato qui cosa c'è che non mi piace non mi piace che qui c'è il bottone di login io adesso sono autenticato io ho uno stato o lo user quindi se andate in app c'è uno stato che questo è lo user e c'è 4 error e l'email e tutto io non devo più far vedere il bottone login io vorrei vedere un bottone logout ok l'ho messo nell'header però quindi io avevo navbar component devo andare ad aggiustarlo io l'avevo già aggiustato c'è già il bottone logout bisogna passargli la prop corretta name che è props user name ok quindi io devo passare props user vado nell'app quindi nell'header che in realtà dipendeva da answer root giusto se user devo fare due livelli di passaggio per questo che ogni tanto vi viene comodo il context se voi volete provare a rifarlo col context potete farlo quindi non è nel row ma è nel main answer dove sta l'header no era nell'answer root c'è l'header qui ah user prop user l'avevo già messo qui ok infatti mi è spuntato qui evito di ricaricare ci facciamo prima mi è spuntata l'informazione che io nello stato di app e che da app passo in giù fino ai componenti dove la devo visualizzare ok ho fatto anche il bottone di logout il bottone di logout però è il più semplice fa un API una chiamata fa il logout è finito quindi io schiaccio vabbè non funziona perché forse c'è ancora qualcosa da attivare ah non c'è la funzione collegata mi sa quindi in navbar components no fa navigate login dovrebbe andare no props logout scusa ecco props logout quindi props logout devo passarlo quindi di nuovo in app dovremmo passare logout uguale do logout che la devo ancora scrivere però la scriviamo come facciamo a fare la do logout dove sta prima della login successful fatemi copiare se no non ci stiamo dentro la do logout è questa chiama l'API e poi resetta lo stato ok quindi la do logout fa API logout quindi va a fare la delete che abbiamo visto sull'API e poi mi fa set login for set user undefined ok la proviamo login ok bottone logout e adesso è sparito ok vi faccio notare che io avevo già predisposto tutto che adesso ci sono i bottoncini che diventano attivi perché perché se voi andate a vedere come è fatta la tabella non abbiamo più tanto tempo però nella tabella io passavo user quello user che poi passo anche all'header lo posso usare per capire se lo user id nella riga è lo stesso di quello della riga e se lo stesso io ho un attributo disabled che attivo o disattivo sulla base se l'id dell'utente logato corrisponde a quello della risposta ok questo per l'edit e questo per il delete e stessa cosa faccio la ad answer invece è più semplice perché basta che l'utente sia autenticato quindi mi basta che ci sia is logged in ultimissima cosa spero che sia l'ultimissima mi sembra di sì ecco all'avvio dell'applicazione io il cookie ce l'ho quindi io adesso vedete che in queste dove è nella get andiamo a vedere la richiesta dove è andata la richiesta response no headers response request perché non c'è no vabbè forse non era ok allora facciamo così volevo farvi vedere il cookie e poi come gestire la sessione già autenticata quindi io faccio login ok l'answer non è autenticata cosa faccio faccio una faccio una edit ok e salvo qualcosa for in due save ok ho salvato ho fatto una put vedete che deve viaggiare il cookie eh questo qui è il cookie connect seed eccetera è il cookie che viaggia dal client dal server della sessione autenticata ok e io adesso sono autenticato vedete che c'è R autenticato ricarico l'applicazione ho perso l'autenticazione ma perché perché lo stato è resettato ma in realtà i cookie viaggiano lo stesso perché il browser ce l'ha il cookie e non è scaduto se voi andate in storage cookie quel connect seed è ancora lì ok allora una buona norma da fare però non è obbligatoria per l'esame è che quando carico l'applicazione io posso verificare se per caso sono già loggato cioè se c'è un cookie valido e come lo faccio con una use effect in più che faccio partire al mount dell'applicazione che adesso incollo nell'applicazione qui che fa quest'operazione check out get user info quindi va a chiedere alla ruta autenticata se c'è l'utente ovviamente qui può andare bene o male se non c'è l'utente mi farà non autenticato quindi farò il catch ma il catch non ha niente da fare qui era una prova ho fatto una prova se invece va bene mi fa mi da l'informazione dell'utente mi fa set login true set user user e così io evito di rifarmi l'autenticazione salviamo proviamo vedete che no aspettate facciamo così ok login ecco era login è partita in stato devo fare il login ha fatto la richiesta si accorta che era già autenticato perché io il browser non l'ho chiuso quindi il cookie era ancora buono ha mandato il cookie sulla richiesta autenticata di get user info c'è stata una risposta positiva la mia applicazione è già autenticata ok e questo lo vedete anche dalle richieste di rete e quindi quando a un certo punto ha chiesto dove era current questa api session current ha mandato il cookie e la risposta è stata che c'era qualcosa se no se io invece ecco facciamo logout faccio la stessa operazione ci sarà e non c'è da spaventarsi ci sarà una richiesta che risponde 401 che è esattamente quella di prima che mi dice che non sono autenticato ma non c'è nulla di male io la prendo nel catch non faccio nulla era solo una prova che ho fatto all'avvio ok credo che sia tutto ok quindi io vi metto faccio il commit in questo codice questo è lo schema per l'autenticazione che va benissimo anche per il vostro progetto d'esame ci siamo ci sono giovedì salvoimprevisti in laboratorio quindi la parte lezione finisce qui oggi martedì prossimo non c'è lezione in aula mi ricordo il calendario quindi no lezione salvo cataclismi cioè non possiamo fare laboratorio per qualche motivo e ricordatevi per favore compilare il CPD di fine insegnamento da adesso al 9 o 10 giugno ok va bene direi che abbiamo finito grazie l'attenzione e ci vediamo ancora per l'ultima insieme l'8 giugno esempio di tema d'esame forse la lezione più importante di tutte non lo so sarà registrata comunque ok va bene grazie 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 a tutti